Per effetto della forza di gravità, le molecole che compongono l'atmosfera vengono attratte verso il suolo e si concentrano nei bassi strati, provocando un aumento della densità. Esiste però anche una forza centrifuga, dovuta alla rotazione terrestre, che tenderebbe ad espellere l'aria nello spazio e le impedisce di collassare al suolo. Queste due forze raggiungono per fortuna un equilibrio, grazie al quale possiamo respirare. L'aria, agendo sulla superficie del mercurio contenuto nella bacinella, spingerà quest'ultimo lungo il tubicino a un'altezza proporzionale al peso della colonna d'aria che lo sovrasta. Immaginiamo un oggetto che si muova dal polo nord verso un osservatore che si trovi all'equatore. Se la Terra fosse ferma, la traccia che l'oggetto lascerebbe sulla superficie risulterebbe una retta. La Terra però ruota in senso anti-orario e la sua velocità periferica aumenta man mano che ci si avvicina all'equatore. Si passa da 0 km orari al polo a circa 1670 km orari all'equatore. Poiché il nostro oggetto parte dal polo con una sua energia inerziale praticamente nulla, al polo la Terra è ferma, il risultato sarà che esso si troverà sempre più in ritardo rispetto alla rotazione terrestre e quindi risulterà spostato verso ovest, e cioè adesso. Nella fascia equatoriale l'aria al suolo si riscalda, diventa più leggera e sale, raggiunge una certa quota, a volte fino al limite della troposfera, e non potendo salire di più, ma sempre spinta dall'aria sottostante, dirige forzatamente verso il polo. Lungo il percorso però si raffredda, diventa più pesante e senza aver raggiunto il polo, scende e dirige nuovamente verso l'equatore. Nell'emisfero nord, per effetto della legge di Coriolis, quest'aria che discende è deviata a destra, dando origine agli Alisei, che sono venti costanti provenienti da nord-est. Grazie a tutti.